No, tre mesi e quattro, due mesi e tre, due, niente, nessuno che fa il consigliere comunale che dici dal comune ed era l'unica che mi batteva insieme con l'assessore nella permanenza in comune, era l'unica che mi batteva perché è andata a verificare praticamente tutte le ipotesi in tutte le città.